Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per aver cliccato su questo video sono Sara Munari ho scritto questo piccolo manuale per aiutarvi nella creazione dei vostri portfogli fotografici e per indicarvi qual è più o meno la via corretta da seguire per riuscire a raccontare qualcosa fotograficamente spero troviate il mio libro interessante vi saluto, ciao grazie